Le immagini parlano da sole, sono quelle che immortalano il momento esatto in cui lo scorso lunedì mattina è stato appiccato il fuoco ad uno dei cipressi di via Santa Croce, proprio di fronte all'ingresso dell'ITIS Fermi. Grazie a queste immagini e a diverse testimonianze, gli agenti del commissariato di Bassano sono risaliti all'autore del gesto. È un 17enne italiano, residente in città, che lunedì mattina, assieme ad altri 5 giovani, tra i 15 e i 17 anni, ha bigiato a scuola. Prima di riuscire nel suo intento, il 17enne ha tentato di appiccare il fuoco ad altre piante. La scena è stata notata da una residente che ha allertato il 115, permettendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco ed evitando il propagarsi delle fiamme, che hanno comunque danneggiato tre auto e un motorino in sosta all'interno dei cancelli dell'istituto Fermi appartenenti a personale della scuola. Per l'autore materiale del gesto, il 17enne è scattata la denuncia all'autorità dei minori per danneggiamento a seguito di incendio, mentre sul ruolo degli altri giovani coinvolti sta indagando la polizia. Per loro non si esclude l'accusa di istigazione. Parliamo di ragazzi, di giovani minorenni, in alcuni casi anche che devono frequentare la scuola dell'obbligo, ma che purtroppo non lo fanno. Quanto accaduto in centro studi e il recente episodio di Prato Santa Caterina, stanno facendo emergere un fenomeno, quello del disagio giovanile, sul quale è pronto ad intervenire il commissariato. Proporremo appunto anche all'autorità polovinciale di pubblica sicurezza, prefetto e questore, una conferenza per aiutare le famiglie, per aiutare le scuole. Quindi evidentemente saranno interessati il sindaco di Bassano e gli altri sindaci del comprensore eventualmente convocabili, per poi intraprendere un discorso collaborativo e di ausilio alle altre istituzioni, ovvero in questo caso la scuola.